Il primo posto in classifica, impreziosito anche dalla qualificazione al secondo turno della Coppa Italia, non fa calare la guardia. Emilio Lungo sa bene che la stagione è ancora lunga e complessa e soprattutto sa perfettamente che da alcune domeniche a questa parte la squadra fa fatica a trovare la via del gol. Contro due torri a Versa Normanna e Sarnese, infatti, le occasioni da rete si sono contate col contagocce, eppure le parate dei porteri avversari sono state una rarità. Emilio Lungo, in versione alchimista, prova allora a trovare nel laboratorio di pregiato la formula giusta per aggirare le tecniche sempre più ostruzionistiche degli avversari. Ormai chiunque ci affronta si difende in undici e col passare delle domeniche vedrete che andrà sempre peggio, ha sottolineato il tecnico salernitano. Urge dunque trovare strade alternative per sorprendere quelli che col tempo diventeranno veri e propri sbarramenti. A Sarno, domenica scorsa, qualcosina lungo l'ha già provata. A metà campo e in attacco ha ruotato uomini e modificato posizioni. Ha inserito Aliperta al posto di Ausiello e non solo per concedere un turno di riposo al guerriero, ma come ha specificato in conferenza stampa mercoledì, dopo il match di Coppa con il Gragnano, anche per provare a rendere più fluida la manovra di gioco. Una scelta però che ha soddisfatto solo in parte il tecnico. La squadra infatti ha sofferto più del dovuto in fase difensiva sulla corsia sinistra, con Aliperta e Galullo quasi sempre presi di infilata dalle veloci incursioni degli esterni e di casa. Allo squitieri, lungo ha mischiato le carte pure in avanti contro la migliore difesa del campionato, ha preferito schierare l'artiglieria pesante, con De Rosa, Del Sorbo e Variale in campo dal primo minuto. La montagna però ha partorito il topolino, se è vero che sono stati appena due i pericoli veri creati, con Del Sorbo in avvio di partita e Variale nella ripresa, poi il nulla o quasi, fino al gol di Tedesco, che ha evitato la sconfitta ma non cancellato le perplessità.